Un saluto dall'ATG della Mobilità, con la conclusione dei lavori su Via di Galla a Placidia è stata riattivata la corsia preferenziale di Via di Portonaccio. Ricordiamo corsia preferenziale di Via di Portonaccio che è presidiata dalle telecamere 24 ore su 24, sia nei feriali che nei festivi. Oggi pomeriggio in centro, manifestazione politica Piazza Bocca della Verità, sono previste temporanee chiusure al traffico e deviazioni bus. In serata invece dalle 20 limitazioni alla circolazione e deviazioni bus sono previste nell'area del Circo Massimo per lasciare spazio alla rappresentazione del Trovatore di Giuseppe Verdi in programma per la stagione estiva del Teatro dell'Opera.